Siamo saliti, non posso riprendere contro il sole, comunque alle nostre spalle, cioè davanti c'è la collina e la salita, noi siamo giunti da là, qui c'è il fiume, siamo saliti ancora, qua ci sono due pianori, carattaci più o meno, si scende l'uno all'altro, e qui c'è tutto il fiume e là c'è il bosco dove eravamo prima.